L'edificio inutilizzato da circa dieci anni a Monreale, che è stato la sede del Cres, centro per la ricerca elettronica in Sicilia, diventerà la sede palermitana del CEFPAS. È stato infatti sottoscritto il contratto tra la regione siciliana e il CEFPAS per l'appunto. L'immobile, che è stato anche vandalizzato, prima di poter iniziare il suo percorso nell'ambito della formazione del personale del sistema sanitario regionale, dovrà essere sottoposta degli interventi a partire dalla messa in sicurezza. La struttura diventerà un polo di circa 17.000 m2 da destinare alle attività assegnate per la nuova mission al centro, si legge nel comunicato, con particolare riguardo alle attività di sanità digitale e telemedicina, complementare al polo di Caltanissetta. La regione siciliana ha stanziato 5 milioni a valere sull'accordo di programma Quadro Salute per il recupero dell'edificio e 3,7 milioni a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. In una prima fase, dunque, si penserà alla messa in sicurezza e rilievi necessari alla redazione del progetto, redatto dalla struttura di progettazione e direzione ai lavori del CEFPAS con metodologia BIM, Building Information Modeling, che consente di integrare in un unico modello tutte le informazioni dell'edificio. L'immobile verrà ristrutturato pensando alla sostenibilità ambientale con un fabbisogno energetico nullo o quasi, coperto da energia generata da fonti rinnovabili prodotte in loco. Ci sarà un confronto anche con la soprintendenza per quanto riguarda l'impatto del progetto sul paesaggio urbano a Valle e Collinare. Sarebbero intanto già stati avviati i primi contatti. Il progetto prevede inoltre il recupero ambientale e paesaggistico della diagente excavaranteria assegnata al CEFPAS con un accordo di programma con il Comune di Monreale, si legge ancora, dove saranno realizzati oltre 200 posti di parcheggio pubblico, sia al servizio degli utenti della nuova sede del CEFPAS sia al servizio della cittadina normanna. Si prevede anche la realizzazione di un ascensore inclinato e un ponte leggero di collegamento tra il parcheggio e il futuro polo. Grazie a tutti.